Sul palco il solito Fabio Volo, divertente ironico a tratti serioso, forse sono maturato ma non troppo dice durante la presentazione del suo ultimo libro, La strada verso casa, svoltasi all'interno del teatro sociale di Brescia moltissima la gente presente, un pubblico che ricopre un po' tutte le fasce d'età il romanzo che racconta di un uomo, l'eterno Peter Pan, che finalmente decide di crescere forse somiglia sempre di meno al volo di oggi che ha messo la testa a posto, è fidanzato e sta aspettando il suo primo figlio Nel senso degli anni passati quando diventavo un po' seriosi poi mi alzavo, dicevo l'ora tutti insieme perché ero un po' prete, un po' l'ora, però adesso ormai sono maturato ragazzi, dovete capire che mi devo prendere la responsabilità della mia segretà No, scherzo, c'è la bar chiusa Adesso ho imparato, scrivendo questo libro, oppure lo sapevo e ho scritto il libro perché avevo capito uno dei problemi fondamentali della mia vita era veramente questa cosa della proiezione del futuro io di questo faccio così, dopo succede che la buone fa così, dopo io faccio così, vado lì e dove ne vado e mi preoccupo di una cosa che magari neanche succede nella vita, ma che proprio perché l'ho pensata continuamente a distanza di seguimento, mi preoccupo e anche all'interno delle relazioni, anche in coppia così mi preoccupavo di cose che magari poi non dovevano neanche succedere grazie 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 grazie